Dopo il successo discosso come conduttore di Lucignolo 2.0, Enrico Ruggeri non vuole certo rinunciare alla musica, anzi, forte di una rinnovata popolarità, è tornato innanzitutto con Frankenstein 2.0, uscito il 18 marzo, e da venerdì 11 luglio è entrato in rotazione radiofonica con In un paese normale il nuovo singolo estratto dall'album. Si legge nella presentazione oltretutto che non è un Enrico Ruggeri classico che parla d'amore, ma in un paese normale è la classica bomba che esplode quando meno te lo aspetti. Un pezzo crudo, diretto, una canzone d'amore sì, ma per tutto il nostro paese e soprattutto quindi di disprezzo verso chi lo ha ridotto in questo stato. Come ormai d'abitudine Enrico Ruggeri ha risuonato e riarrangiato il brano e con un occhio alla scena televisiva di cui fa ormai decisamente parte ha chiamato due compagni di viaggio molto speciali, Ale e Franz. I due comici lo hanno aiutato a raffigurare il tutto, tutto il concetto di In un paese normale all'interno di un video caustico e distacrante nel quale i cattivi sono quelli che le banche le fondano e non quelli che le rapinano. Sono quelli che, ben vestiti e con sguardi rassicuranti, muovono interesse ai danni della gente semplice. Più combattivo che mai, ecco quindi Enrico Ruggeri, reduce anche da un tour decisamente di successo e la sua nuova provocazione in pieno stile.